E' stato difficile perché è stata la mia prima esperienza su un set rumeno, perché ho iniziato la mia carriera in Italia, poi ho proseguito per l'America e la Francia e mi sono affacciata al cinema rumeno. E' stato difficile perché abbiamo dovuto imparare questa lingua fischiata che si chiama il silbo, che è una lingua protetta dal patrimonio UNESCO dal 2014, una lingua molto bella, e oggi se vuoi comunicare in un modo che nessuno ti possa capire, penso che questo è un buon, come si dice, si può utilizzare il mondo bene, scusate non venivano le parole in italiano. E sì, una lingua che può essere usata per non essere intercettati mappati. Mi sono trovata molto bene, Cornelio è un regista molto attento ai dettagli, abbiamo girato tantissimo, tanto, 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 però è bello, è bello trovarti su un set e lavorare con delle persone che vogliono far bene, perché sono trovata anche sui set dove si accontentavano quei primi Chuck, ti senti bravissima all'inizio e poi pensi che nessuno non li frega, non è che danno così tanta importanza, ed è brutto, succede ed è brutto e non è tanto piacevole. Torino Film Festival, vi mando un grande saluto, vi ringrazio che avete accolto il nostro film qui, questo festival bellissimo, in una città stupenda che mi appartiene anche perché metà della mia famiglia si trova qui e basta, vi saluto, ciao!